e bella a tutti ragazzi e oggi siamo qua in un nuovo video su fortnite in compagnia di sarà una propanta io mi dovrò nascondere e a sua volta e ancora c'è un nico ninja si dovrà ma no non può già iniziare e quindi raga mi devono no non partire parti a 4 parti a 4 ok parti ai 4 come ho fatto io perchè prima abbiamo provato un po' raga ok raga qua secondo me non mi trovo e però in cosa mi riformo ok raga dobbiamo dobbiamo solo aspettare sei piccolo o perdi vita eh si perdi vita sei piccone mi sembra a te prova ti ho visto no non sono lì ti ho fatto un troll non sono dove pensi che sia ti ho fatto un troll no 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 ops Ancora ho sbagliato raga Spero che non mi senta A voi Alla prossima Alla prossima Aiuto Già mi sei passata davanti due volte Sì Raga dobbiamo solo vivere un minuto Ancora un minuto e trenta e cinque Dai E sopravviviamo Ma raga è ancora qua stavo per andarmene Certo posso Certo posso Cioè no scusa è vero Se vuoi andartene facciamo una regola Una regola al volo Se vuoi andartene devi fare veloce per andare a prendere la monettina Però puoi tornare subito sul tuo posto Piccola regola Oh my god Oh my god Ah che bella raga Non mi troverai mai 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 Mi sei passato davanti tre volte Ok sto per uscire Buongiorno Guarda Hai presente nella porta accanto Da dove eri andato che hai sparato Non in quella di sinistra In quella di destra Dove c'erano le due scatole Hai presente? Eh Ero lì Era la scatola contro Com'è che si dice Contro Contro il tetto Mi devo nascondere io tanto Ma hai capito dov'ero in pratica In pratica Io ero nella porta di destra Della tua destra E Aspetta Cambio oggetto Non partire ora Non partire ora E in pratica Te mi sei passato davanti tre volte La prima volta era una sedia Non partire La prima volta era una sedia La seconda volta Ero Ero Con la scatola Vai Puoi partire Fuck Fuck No ti volevo trollare A Gabriele A Gabriele L'ho trollato Così Magari mi dessero colpi infiniti Oddio Sono molto più felice Ai Ops Pressione Guardate raga Ah no Con i mitragetti Con il piccolo Sta perdendo vita io Mi intervino Anche nell'account Dimmi quando posso partire Capito Oh io ho quattro parto Te lo dico Ok Indizio E quale cava Ma in un magazzino Sta in uno dei due magazzini Eh Dra Sta in uno dei due magazzini Dra Mi ascolti Sta in uno dei due magazzini E com'è che faccio a salire là Ok qua ci sono le scale Dimmi se mi vedi passare Sei qua Teo Da sei qua in questo magazzino Mi hai visto passare Ma secondo me sei sopra Non c'è un altro modo per salire ancora Ma dove diamine sei Mi dai un indizio però Quattro volte Ora mi vedi passare Beh di la verità Mi vedi passare per forza Ma sei sopra o sotto Sei sopra o sotto 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 Quello sono andato a fare E quelli sono dappertutto A 1 minuto e 20 Ma stai nel magazzino Che quando entri Sembra un meccanico O no Casetta Allora sei sopra Sei sopra per forza Sei qua per forza allora Che c'è solo la cucina Sei qua per forza Una lì Ma te mi stai prendendo in giro Ti ho visto Tranqui che non mi scappi Ti ho fatto pure headshot Come ho perso Ah è perché hai preso una moneta È vero E ne hai preso due No Hai preso una moneta Che culo La sapevo che eri lì Ma Ti ho detto Mi hai visto passare Sì sì No Devo cercare io A 4 porto A 4 è A 4 è A 4 è A 4 spazio L'alante Visto Nasconditi Arrivo Chissà Eh Hai perso tempo Facciamo che ora è un po' Si può partire subito Ti ho visto Credo Sì ti ho visto Spero che non hai preso una monettina Mi sono rotto Ma balla un po' Non hai preso una moneta Non fare lo stupido Hai vinto Hai vinto te tanto Due a due Siamo perché ho preso una moneta Due a due Manco una monetina Non una Ven due monetine No dai Devo cercare ancora Ah no Ah no Ok No Secondo me Ho sprecato un round Invece no Non l'ha sprecata Se vinco Devo fare una cosa Molto tattica Come ti sto trollando Dra Dra Ti sto trollando In un modo assoluto Io Dra Ti sto trollando In un modo Che non ti puoi immaginare Eh Perché Lo scoprirai Non sono in un magazzino Ti sto trollando No Non sono in un magazzino Sono Ti dico a un minuto Te lo dico quando manca un minuto Dove sono? No 30 secondi 30 secondi No 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 Aiuta Questo qua raga è l'ultimo round Quindi se vinco Dovrei aver vinto In teorin Mi sto vincendo Io No Sì No Sì Non c'ho ancora mai Cioè ti ho visto passare all'inizio e basta Perché poi ti ha trollato Sono in un bar In una specie di bar Ok mancano 49 secondi Ragazzi gli dico dove sono Per trollarlo Ancora di più 30 second Voglio vedere dove sei Ma ho paura No ma non sei qua tanto Sto ballando Ok raga Ho deciso che lo dico a 30 secondi però Come Ok raga mancano esattamente 20 secondi Ok ora 20 secondi Te lo devo dire dove sono Secondo me ti arrabbi un borto Non c'è ne 10 secondi Sono nel punto dove ti spawni Chi lo sa se sono dentro o fuori Fuori dentro Sono una macchina Qualcosa del genere Chi lo sa Magari non sono lì Magari non sono lì Oh my god No Sono vivo Sono vivo Quanto goto tra Ragazzi Spero che il video Mi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi A commenti Fade la campina Per sapere quando faccio video Bella a tutti raga E ciao Ciao